Nel giorno della rabbia e del dolore per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da parte della regione Campania parlare di possibile riapertura degli stadi appare anomalo e fuori luogo. Immaginare che domani, il giorno in cui è atteso il decreto in materia, il governatore Vincenzo De Luca possa decidere di permettere ai tifosi, seppure numero ridotto, di entrare allo stadio Partenio Lombardi o negli altri impianti della Campania, sembra davvero un paradosso. Intanto, mentre il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ieri ha ribadito che gli stadi in Italia rimarranno vuoti almeno fin quando il numero dei contagi sarà così alto, c'è sempre l'articolo 1.6 lettera E del DPCM dello scorso 13 ottobre che chiarisce che per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di mille spettatori per manifestazioni sportive all'aperto. Se sarà seguita questa linea, se sarà resa più rigida o non cambierà nulla, cioè si continuerà a giocare a porte chiuse lo scopriremo solo nella giornata di domani. Intanto l'avellino di D'Agostino, per non farsi trovare impreparato, ha inoltrato una richiesta alla regione Campania proprio alla luce dell'articolo 1 del DPCM in vista della sfida con la Juve Stabia prevista lunedì alle 21. Curva Sud e Tribuna Montevergine sono gli unici settori agibili, 4.220 spettatori la capienza attuale, al 15% si arriverebbe a 633. Una richiesta che però appare formale più che sostanziale anche sulla scia degli altri club campani perché, parliamoci chiaro, seppure ci fosse una fumata bianca che sembra francamente impossibile ci sarebbero poi tempi tecnici per far partire la prevendita per allestire tutto nel rispetto delle norme anti-Covid? La missione è davvero impossibile. Va ricordato che comunque l'ultima volta che Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza in materia di stati è stata con la numero 73 quando ha concesso i mille spettatori per Napoli-Geno e Benevento-Inter lo scorso 27 e 30 settembre. Ma allora non c'erano i contagi di oggi ed una situazione che giorno dopo giorno diventa più complicata. Pensare al calcio quando il futuro di migliaia di studenti è in bidico non è giusto, opportuno e utile per nessuno.